Il Governo torna sul tema dei fondi della sanità a disposizione per le Regioni. Nel 2014 il budget era di 109 miliardi per il 2015, aumentato arrivando a 110 e la previsione per il 2016 di 111. Poi è normale che le Regioni desiderino di più, è normale che tutti quelli che ragionano di sanità vorrebbero sempre più soldi. È giusto, è logico, è comprensibile, ma in un bilancio dello Stato noi abbiamo messo un miliardo in più all'anno. Che ci sembra una bella cifra. Intanto l'appello del Premier è quasi un diktat per ogni singola Regione è spendete bene i fondi a disposizione. Diciamo anche alle Regioni, spendeteli bene, non buttateli via. Quando mi si dice che ci sono tagli, allora mi sembra ingiusto e mi arrabbio perché non è vero. Non ci sono tagli, lo scorso anno erano 110 miliardi, lo scorso anno è 109, quest'anno 110, il prossimo 111, ogni anno c'è un miliardo in più, non ci sono tagli. E in Molise si evidenzia come l'aggravante della presenza di top manager Di Martino in quota sub commissario in sostituzione di Rosato, Pirazzoglia la guida del comparto dirigenziale della sanità, affiancato da Giuseppina Arcaro in qualità di direttore sanitario, che costano le casse dei contribuenti molisani, cifre da capogiro non abbia risparmiato economie di cassa. La sanità è allo sfasce e sembrerebbe che nessuno dei blasonati abbia risollevato le sorti molisane. Anzi, la situazione diventa giorno dopo giorno sempre più nera.